eccoci con un'altra ricettina ce l'abbiamo un cavolfiore in casa e allora visto che adesso il periodo perché siamo in autunno inoltrato quasi in inverno senza romperlo vi raccomando con un coltello a modi bisturi piano piano togliamo l'interno ok vedete deve rimanere intero ora capirete il perché quindi cerchiamo di fare un bel bello spazio dentro e ora capirete sì certo l'avete già capito allora prendiamo 250 g di trita mettiamo sale e pepe dentro un contenitore naturalmente e io ho messo anche la paprika perché mi piace proprio il gusto della paprika l'ovetto e un paio di cucchiai di pangrattato se avete la mollica di pane è ancora meglio ok impastiamo io ho messo il guantino così non ci sporchiamo troppo le manine con la paprika e andiamo a riempire il nostro cavolfiore quindi se volete ovviare i tempi di cottura del cavolfiore che adesso andrà nel forno sbollentatelo una decina di minuti però intero deve rimanere intero allora un bel cucchiaio io adesso sto usando il concentrato no quindi un cucchiaio di concentrato un bicchiere scarso di acqua sale e pepe ma se volete potete usare un sugo semplice normale ok sì qui ho messo anche l'aglio in polvere perché mi piace io tutto quello che metto è perché poi devo mangiarlo io quindi deve piacermi ma voi se non piace non lo mettete ho preso un contenitore che poi una teglia da forno ecco gli ho messo un goccino d'olio e gli ho adagiato sopra il nostro cavolfiore ripieno ho iniziato con il cucchiaio per fare andare il sugo dappertutto ma se volete scaraventatelo sopra catapultatelo sopra direttamente il forno già acceso a 180 gradi come vedete poi ho usato anche il pennelletto per riuscire a far andare il sugo dappertutto ho messo prima carta forno e poi la carta stagnola mai a contatto l'alluminio con gli alimenti mai in forno via abbiate pazienza ci vuole almeno un'ora qui così quindi 180 gradi perlomeno un'ora in forno via il calduccio perché il cavolfiore si deve cucinare se invece l'avete già fatto andare a parte la metà di mezzati tempi poi tolto la carta stagnola lottando e lasciamo almeno un altro 10 minuti con mezzo bicchiere d'acqua in più sopra se si è asciugato così continua a cuocere viene una cosa meravigliosa buona proprio un buon sapore la carne che si prende del cavolfiore a chi ama il cavolfiore a parte che io amo tutte le verdure quindi vi raccomando condividete le mie ricette vi raccomando eccoci ecco io poi non ho avuto pazienza perché giustamente avrei dovuto toglierlo da questo contenitore perché devo avere un posto piano dove poterlo tagliare e sarebbe rimasto piuttosto intero eccolo guardate c'è un bel aspetto un bel fiore cavolfiore giustamente bene poi ho messo anche un po di prezzemolino e questa è la mia ricettina di oggi vi è piaciuta guardate è veramente gustosa dovete provarla e questo è quanto per oggi se vi è piaciuto vi raccomando pollice in su e io come al solito vi aspetto per la prossima ricetta ciao ciao